Oltre 100 segnalazioni di presunti casi di mala sanità in Puglia nel 2014, tra le circa 1000 del territorio nazionale. Il dato è emerso durante un incontro organizzato a Bari dall'Associazione Codici, Centro Diritti del Cittadino. Si va da errori e negligenze mediche, sino ad errate diagnosi che in molti casi hanno portato anche a decessi, sino ancora a carenze delle strutture e dell'assistenza professionale, cui hanno diritto ogni paziente. Secondo Codici Puglia la situazione drammatica è distribuita quasi omogeneamente su tutto il territorio regionale e gli esposti che Codici Puglia invia alle procure sono quasi davvero e proprio bollettino di guerra. C'è in siti oltre 50 processi in corso in cui sono imputati i medici, il 55% dei quali al sud. In tutti i procedimenti l'associazione si è costituita parte civile. All'incontro di Bari sono intervenuti i segretari nazionali e regionali dell'Associazione, Ivano Giacomelli e Maria Bovino, docenti universitari, magistrati e dirigenti sanitari. Se parliamo di danno economico parliamo di circa milioni di euro per quanto riguarda la Puglia. Però più che il danno economico va visto il danno che le vittime di malasanità subiscono. Perché alla fine purtroppo con l'orientamento giurisprudenziale che c'è adesso, che è molto accomodante, sappiamo tutti la durata dei nostri processi che è quasi infinita, abbiamo anche un grosso problema che è la prescrizione. Per quanto riguarda la Puglia in particolare, come segretario responsabile di Codici Puglia ho monitorato tutto l'anno 2014. La situazione sinceramente è drammatica. Mi sono stupita anch'io che la Puglia possa avere così tante situazioni di malasanità. Molte che hanno portato a decessi e molte che hanno portato, chi l'ha subita, danni anche permanenti. Tra coloro che attendono di far luce sulle cause della morte della propria figlia, anche Giuseppe Lepore, papà di Valeria, la poliziotta penitenziaria, morta a 26 anni dopo due interventi chirurgici. L'unica ragione che ci rimane è questa battaglia per poter arrivare a dare giustizia a mia figlia. Io sono qui per testimoniare questo grido di dolore e questa ingiustizia che è stata fatta a mia figlia.